John, va avanti tu, da oggi sei promosso capitano. Capitano dei bambini sperduti? Ma Peter, non mi vedi? Sono troppo piccolo. Siamo tutti piccoli. Perché? Tu quanti anni hai? Io esattamente... beh, mi pare... No, non lo so quanti anni ho, ma so che sono abbastanza piccolo per essere grande! Ma Peter, che cosa significa che sei abbastanza piccolo per essere grande? Ti sono scappata appena sono nato, non mi ricordo nient'altro. Vuol dire che non ti ricordi quanti anni hai? No. Né di quando sei nato? No. Né dei tuoi genitori? No. Ma qualcosa te lo ricorderai? No? Beh, sì. E non sai che pensarci bene? Mi ricordo che anni fa, non sapeva ancora parlare, e ho sentito Drilly che cantava. E nei sogni di bambino, la chitarra era abbastanza, e chi non ci credeva era un pilota. E la voglia di scappare, e la voglia di volare, forse mi è venuta proprio allora. Forse è stata una fazzia, però è l'unica maniera di dire sempre quello che mi fa. Ma che ci volete fare? Non vi sembrerà normale, ma è l'istituto che mi fa volare. Non c'è gioco né visione, perché l'unica visione, è quella della realtà e della ragione. Erano quelli maratelli, sempre a cazza delle streghe, diciamo no, non è una cosa seria. E così resta e vivare, ma lasciateci sfogare, non metteteci alle strette, o con quanto fiavi in gola. Più lerà, non c'è paura, ma che politica, che cultura. Sono solo canzonette, sono solo, sono solo, sono solo canzonette. Allora capitano, cosa vuol fare? Soldati, attenti! Agli ordini! Agli ordini? Fico! Avanti, march! Che Dio salvi la regina! Uno, due, 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 Grazie!